In questi giorni si sta parlando molto di un senatore del Movimento 5 Stelle che è stato ripreso mentre provava il suo discorso. In pratica all'interno di una seduta del Senato un senatore stava parlando al microfono e nel frattempo lui stava provando il discorso che di lì a poco avrebbe letto all'aula. Prima di tutto vi voglio spiegare perché non vi voglio far rivedere questo video. Il motivo è molto semplice. Torno a un tema di cui mi sono occupato soltanto qualche giorno fa, la distinzione tra ribalta e retroscena. La situazione di ribalta è quella in cui noi decidiamo di andare in pubblico e di parlare al pubblico. Retroscena è il nostro spazio che è un diritto. Il momento in cui noi proviamo un discorso è un momento di retroscena, non è un momento di ribalta e per questo motivo non sarò io a farvi rivedere per l'ennesima volta un video che riprende un momento di retroscena di un comunicatore. Ve lo voglio raccontare questo perché penso davvero che non ci sia niente da ridere nel vedere un comunicatore che prova il suo discorso. Provare il proprio discorso è una forma di rispetto nei confronti del pubblico. È un modo che noi abbiamo a disposizione per fare in modo che tutti possano capire quello che vogliamo dire loro. E io dico benvengano i politici, i professionisti, i comunicatori che provano i loro discorsi rispetto alle persone che improvvisano totalmente i loro discorsi e che vanno davanti al pubblico a dire le prime cose che gli passano per la mente. Credo molto nel valore della preparazione quando si tratta di public speaking. E quindi personalmente, indipendentemente dal colore politico, voglio fare i complimenti a questo senatore che ha provato il suo discorso e anche complimenti per averlo fatto in una situazione in cui confidava sulla possibilità di stare in retroscena e qualcuno invece lo ha ripreso e in qualche modo questa ripresa è arrivata sui media. Bene, in realtà mi piacerebbe sapere poi se nel segreto delle proprie stanze anche gli altri senatori, magari la stessa persona che ha fatto quel filmato, non faccia delle prove e non pensi che quel momento di prova meriti lo stesso rispetto che avrebbe meritato il senatore dei 5 stelle che invece si è ritrovato pubblicato sulle pagine web di milioni di utenti che hanno visto quel filmato.